Rocky, lui è Rocky, ha otto anni e ha appena avuto un intervento, si è ripreso bene, si sta ambientando con gli altri cani, però ci vorrebbe una famiglia per lui. Amore, da voi una famiglia? Purtroppo i suoi padroni sono morti a breve distanza l'uno dall'altro. Amore, tesoro, tesoro, amore mio bello, amore. Rocky, fatti vedere quanto sei bello, là gli manca il pelo per l'intervento, ok, questi intanto litigano. Uè, ma che gioco pesante, fatti, oi, non mi cade il telefono, là c'è la bella Lola che rosicchia un osso. Anlieva, tumore, tumore. Grazie.